E' una partita un po' nervosa oggi sul campo di San Francesco, un pochettino infatti mi dicono da dietro Comunque comunque c'è Andrea It, lui ve la racconterà, ne ha tutto il risultato finale Il risultato finale è un 3-3 che comunque pesa per quanto riguarda la classifica dei playoff Un punto importantissimo contro una squadra molto dotata sia tecnicamente che fisicamente Infatti nel primo tempo abbiamo avuto molte difficoltà nel tenere a galla questa partita Per fortuna nel secondo tempo alcuni episodi ci hanno permesso di riuscire a pareggiare Nonostante l'ultimo gol subito siamo riusciti a tenerla viva fino all'ultimo Bravi noi ma soprattutto bravi anche gli avversari che come ho detto è una squadra molto dotata E niente il primo punto dopo una serie di sconfitte ci dà morale e ci fa sperare per quanto riguarda i playoff Grazie, grazie per la disponibilità, praticamente hai già risposto a tutte le domande che volevo farti Comunque grazie e speriamo di rivederci presto Grazie